I rappresentanti della funzione pubblica della CGL e dell'Inps di Battipaia chiedono maggiori controlli per l'area che circonda l'agenzia territoriale. La situazione non è delle migliori e il cantiere del Pio Europa, che come è ben risaputo e fermo, di certo non aiuta. La situazione di degrado che abbiamo già ampiamente segnalato come CGL, ovviamente in assenza di controlli, continua a degenerare. Questa mattina abbiamo riscontrato la presenza di camper e roulotte che sostavano sull'area e la nostra insistenza per la risoluzione della questione che riguarda il cantiere Pio Europa è dovuta proprio a questo per cercare di evitare che la situazione degeneri, una situazione che ormai è intollerabile per tutta la comunità e per l'agenzia Inps che rappresenta un'istituzione. In attesa di un intervento risolutivo sulla questione Pio Europa, auspichiamo che l'amministrazione intensifichi i controlli sia per la sicurezza di noi lavoratori sia per la sicurezza degli utenti che fruiscono dell'Inps.